Musica Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video della Computer Museo Quest'oggi siamo tornati qui per fare un altro unboxing A sto giro non so cosa sarà ma lo scopriremo Questo pacco arriva da Amazon dalla Cina esattamente però arriva con Amazon da 20 giorni E in pratica dentro ci dovrebbe essere in teoria il nostro altoparlante microfono per la Baofeng Quindi andiamo a vedere come... Che bello che è È molto molto bello Ho visto che qualcuno si è lamentato che non raffigurava quello in foto ma questo è fatto veramente molto molto bene Ovviamente originale Baofeng con LED per appunto quando segnala la presenza del contatto e tutto In più abbiamo un finto attacco auricolare perché volendo si potevano attaccare degli auricolari esterni E questo è un secondo il sistema semplice Mentre per la nostra Baofeng ho quanto capito funziona con tutti i tipi di Baofeng Anche le UV queste qui che appunto sono quelle più nuove Sì infatti come vedete quando si preme la luce della nostra segnalazione del nostro apparato fonico Non so neanche come chiamarlo del nostro non walkie talkie perché questo ha un nome preciso però non mi ricordo più come si chiama Che dovrebbe essere in teoria... comunque l'apparecchio tipo auricolare adesso mi viene Appena noi trasmettiamo la stessa luce viene trasmessa sul nostro walkie talkie oppure anche se premiamo qua come vedete trasmette nello stesso modo Comunque questo era appunto l'apparecchio per ascoltare all'esterno Non mi viene il nome adesso perché aveva un nome appunto ma non mi ricordo più Il costo di questo prodotto è di circa 6,45 euro tipo una stupidata Ci metterà solo un po' ad arrivare però ne vale la pena perché esteticamente è fatto molto bene È fatto in metallo o ferro comunque è fatto di una lega comunque molto robusta E devo dire che a parte la leggerezza cioè si capisce che comunque è creato appositamente per durare Inoltre ha una clip multifunzione che possiamo orientarla come vogliamo noi Ha diversi tipi di modi appunto per essere anche collegato perché comunque come stavo dicendo prima Si può collegare oltre con la Baofeng 8-8S anche con la Baofeng UV 5R, 3R, 8E, 8V E tutti gli altri apparati ovviamente Baofeng, targati Baofeng Comunque per il resto dalla computer musica è tutto, grazie ancora e al prossimo episodio Ciao ragazzi! Ciao!